Come hai avuto la tua squadra? La nostra squadra giocava molto bene insieme. Abbiamo trovato l'altro quando eravamo aperti. Credo che abbiamo scoperto bene, ciò ci ha aiutato con il momento che va a continuare durante il gioco. Mi sento bene. Ho aspettato per iniziare la settimana, quindi questo è un buon start per la settimana e sono pronta per continuare da qui e continuare a vincere i giocatori. Devo dire che le ragazze stasera veramente hanno fatto una grande prova difensiva. Io dico sempre che noi dobbiamo difendere così per poter vincere le partite. Anche perché difendendo così poi in attacco riusciamo a trovare la nostra palacanestro che è fatta di transizione contro piede. Infatti era l'esordio per qualcuna. Avevamo cambiato qualcosina, quindi avevo un po' di timore, però devo dire che le ragazze sono state bravissime, hanno fatto una gran partita e sicuramente devo dire che sono contento del lavoro che stiamo facendo. Pensiamo a giocare, a continuare a fare questo lavoro. Sicuramente la difesa è la nostra arma. È innegabile che la società mi ha accontentato allungando la panchina e questo mi permette di poter difendere ancora più forte. Sicuramente abbiamo a livello offensivo delle giocatrici con tanti punti nelle mani. Sono contento per l'esordio di Scalia stasera, di Zembroska, che era la prima volta nel nostro campionato, però devo dire che stasera hanno dato sicuramente un avvio importante per quello che è la loro stagione in Italia.